sono contento, bravissimo, bravo, 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 e invece tu ma macchina, tu come lo chiameresti il bimbo tuo? Io? Deppa? Eh vabbè dai, adesso stai iniziando, quello che è più bello, quello per adesso, poi lo cambierò, debito, però chiamarlo in futuro poi lo cambierò il nome, in futuro, cioè tu ogni due anni cangi il nome al bagnone, ho capito, quindi Giuseppe, Luigi, Gian Pasquale, ogni due anni ricambi così, pensi di avere sempre una decina, una quindicina, una dodicina, una ventiduina, ho capito, bravissimo, bravissimo, e invece la monna Misa che cosa pensa di te? Cosa pensa? Che sei un bambino apposto, che sei un ragazzo monello, che sei un ragazzo da sposare, gli dai fiducia, gli dai concretezze, gli dai sicurezze, oppure sei un pochettino, sai amorfo, un pochettino senza pizza, amorfo, che hai ragione a cazzo, che non c'hai il cazzo, però ragioni a cazzo, no vabbè, il cazzo ce l'ho, e che cosa pensa? E che cosa pensa? Cosa pensa la tua ragazza? Che sei da sposare? Quella pensa, lei pensa di sposarmi perché è un bambino in futuro, ma come sono te o non riesci, non riesci, però hai messo tutti i buoni propositi per sposare, non stai facendo, cercheremo, tenuta a Montenari, tutto a posto, tutto organizzato, cercheremo di andare avanti, senti, un'altra cosa, voglio entrare nel tuo intimo, nel tuo io, nella tua riservatezza, nella tua privacy, ma tu la prima notte di nozze gliela butteresti o invece saresti più calmo e ti riserberesti tutto per dopo? No, 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 oppure subito? Subito, subito, squaderni tutto, cioè consumi tutto, consumi tutto, bravissimo, sono contento perché le gioie bisogna acquisirle a me, perché un domani non sappiamo lo mettiamo, se non facevo su quello e poi c'è un po' questi problemi che tengono le femmine, capito? Sai, i problemi, le cose, possono tornare alla testa, e poi sì, e poi dopo due anni poi iniziano tutti i problemi che non vanno più bene, che non vanno più bene? Senti, un'altra cosa, e tu sei contento di questa tua unione? Penso, cerchiamo che, penso di sì, penso! Vabbè, pensi o sei sicuro? Penso! L'unione fa la forza, non si dice, bravissimo, bravissimo, però non puoi mai sapere, eh no, quella vita no, quella vita no, io vado di là e lui vado di là, bravissimo, bravissimo, se lei va di là e io vado di qua, senti un'altra cosa, ecco il lavoro ti trovi bene con gli amici, con i colleghi? Con gli amici sì, un lavoro poco poco, un'altra cosa, per adesso tu stai bene con questo tipo di lavoro, fai il pulitore di locali, no pulitore, c'è pulitore, fatta dura, allora diciamo che sei un netturbino, sei un netturbino di quelli diciamo, al primo livello, però in un futuro prossimo, anteriore, un futuro remoto, tu che cosa vorresti fare, tu da bambino che cosa, il tuo sogno che avresti voluto vedersi realizzato? Un film di porno. Attore porno, un attore porno, ho capito, e senti invece la specialità tua camasutrale, qual'è? Dell'attore, del tuo attore, del tuo personaggio, qual'è la specialità? E la pecorina, e la samaritana? Tutte, 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 tutte le pochettine, mi piace. Eh però, lo so che ti piace un pochettino quello bianco, no? Quello? Eh, un pochettino, sì, un pochettino. Però non dire molte cose perché questo video poi lo possiamo trasferire sul computer e lo possono guardare tutti, no, non essere molto volgare, ti piace quella cosa biancuccia, 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 biancuccia. Allora, senti, eh, cioè, ti piacciono tutte le posizioni, però una è particolare, una è particolare, quella col perizoma però è alla pepora, è un pochettino anche senza peli, è vero? Sì. Quando la donna è senza peli. La donna senza peli è spettacolare, perché si appoggia. Senti più l'attaccamento della pari. Va bene, sono contento. Grazie. Arrivederci, il video è finito, questo poi ci rivedremo sui prossimi schermi all'Ariere Confusion. Arriere Confusion. Ciao Chavietto. Un ciao, un ciao. Fai un ciao. Confusione. Ciao, Confusione. Ciao, ciao Vicentelli. E ciao Gianluca Mamma. Ciao. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao.